Ciao, in questo terzo step andremo a vedere come fare il tuo primo acquisto su Poinks. Poinks è un sito di couponing, cioè tipo per capirci Groupon, dove hai la possibilità di acquistare beni e servizi a prezzi fortemente scontati. Pensa che puoi risparmiare fino al 90% del valore di mercato. Veramente incredibile! Ma non è finita qua. Iscrivendoti a MyG21 ottieni un coupon da 10€ che puoi scalare dal tuo primo acquisto fatto su Poinks. Unica condizione è che sia un acquisto di importo pari o superiore a 20€. Quindi comprando un oggetto da 20€ lo pagherai di fatto 10€. Per accedere a Poinks clicchiamo qua alla voce couponing. Eccoci qua. Clicco su buy allo store. A questo punto clicco qua dove c'è scritto accedi a Poinks. Chiudo questo pop up. Adesso mi devo loggare. Quali sono le credenziali? Le credenziali sono esattamente quelle che utilizzo per loggarmi a MyG21. Adesso mi sto loggando. Mi raccomando di una cosa. È fondamentale che tu acceda da Poinks sempre, solo e soltanto dopo esserti loggato a MyG21 e cliccando alla voce couponing. Questa è l'home page di Poinks. A questo punto non mi resta che scegliere la mia provincia. Supponiamo che io sia di Milano. Quindi selezionerò Milano. E questa è quella che è l'home page delle offerte di Milano. Come vedete c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di categorie shopping, viaggi, bere e mangiare, case e servizi e via dicendo. Ipotizziamo che io sia interessato a una cena o qualcosa, clicco su bere e mangiare, clicco su pizzerie e accedo a tutte quelle che sono le offerte delle pizzerie convenzionate. Come vedete sono moltissime. E come vedete, cosa che tengo molto a puntualizzare, sono dei prezzi veramente strepitosi. Guardate questo. Un menu dal valore di 20 euro ceduto a soli 8 euro. Soli 8 euro. Qua, se vado nei tuoi affari, ho un riepilogo di quelle che sono state le mie transazioni fino a questo momento. Se clicco sulla voce i tuoi crediti, come vedete, risulta essere a mio beneficio questo coupon di 10 euro. Quindi questo coupon, quando andrò a fare il mio primo acquisto, pari o superiore a 20 euro, mi sarà automaticamente scalato dall'importo. Qua me ne torno nella mia città, quindi a Milano. Supponiamo che, come dicevo prima, sia interessato a una cena in pizzeria. Scelgo l'offerta che più mi interessa, supponiamo questa. A questo punto clicco su compara, accederò a una maschera dove mi verrà chiesto se ho un coupon o meno. E da lì, la fase successiva sarà quella di fare il pagamento, che potrò fare con carta di credito o Paypal. Fatto questo pagamento, dopo circa 3-4 giorni lavorativi, la mia transazione risulterà. E quindi cosa succederà? Succederà che avrò guadagnato Gcoin, ma non solo, avrò anche guadagnato un bonus di 5 euro. Quindi, avrò preso un'offerta strepitosa, l'avrò pagata molto meno del valore reale, avrò scalato il mio coupon da 10 euro, e in più avrò guadagnato anche 5 euro. Veramente incredibile! Con questo è finita la spiegazione di questo terzo step, ci vediamo alla prossima, ciao!